Siamo al termine di Caraquattro che ha stancito la vittoria di Rieti per 82-72 che sale, almeno va a Forlì per giocarsi le Final Four. L'Eurobasket, presidente Armando Buonamici, ha giocato non una straordinaria, forse anche qualcosa di più stagione, chiaro rimane l'amaro in bocca, però è una stagione veramente fantastica, però si è perso con Rieti questa finale. Presidente, un bilancio non solo di questa serie ma di tutta questa bellissima stagione. Io posso essere solo che contento di tutto quello che hanno fatto i ragazzi e quello che hanno dato. Era una cosa quasi impossibile, noi ci credavamo perché deve essere così, uno ci deve credere finché ci stiamo. Abbiamo perso una grande squadra, una che merita da stare lì pure perché con seguito così del pubblico gli fa onore. Devo dire che come Regione Lazio andrò su e tifererò per Rieti, però adesso questo è Rieti. Adesso che vorremmo parlare di noi, io a 1-1 li abbraccio, la squadra sono strafelice. Quello che abbiamo fatto è un segnale, è un segnale che anche con poco e anche venendo solo dal settore giovanile, perché sono tutti i ragazzi che vengono dal settore giovanile e questo è veramente un onore. Lo farò più tardi, me lo vado a abbracciare 1-1 e li ringrazio 1-1. Io dico ancora una volta, forse Eurobasket. Presidente, voglio dire ancora qualcosa altro prima di ringraziare. So che è molto emozionato, giustamente come siamo emozionati anche noi in cronaca. Tante fotografie belle di questa stagione, da regular season, poi il girone di ritorno, Senigaglia, Palestrina, 3-1, le due belle gare in casa, insomma tante belle fotografie. È difficile sceglierne una di questa stagione, no? Io poi di tutte queste partite ho dei flash, dei bei ricordi, pure a volte delle sconfitte perché ci siamo ringraziati. Però la cosa più bella è che i ragazzi, adesso abbiamo finito questa cosa e già pensiamo che siamo con l'Anda 17 a Treviso, andiamo su, cerchiamo di portare quello che abbiamo fatto oggi, quello che facciamo tutti i giorni. Perciò questa è una cosa che non finisce mai, nel senso che c'è sempre un continuo, stacchi in una cosa e stacchi in un'altra. E spero pure che sia un esempio quello che è successo tutto il campionato per i ragazzi che è l'Anda 17, l'Anda 15, l'Anda 14, l'Anda 13, che danno sempre il loro massimo. Grazie a... Ah, scusate, vorrei ringraziare tutti quanti, tutti quelli che c'è, da voi che siete stati vicini, dai dirigenti, dai genitori, dai ragazzi, tutti quanti. Grazie alla mia famiglia. Siamo noi che ringraziamo Armando e buon amici e naturalmente tutta l'Ero Basket per le belle emozioni Armando che ci ha regalato, perché è stato un onore e un privilegio raccontare questa squadra. Di nuovo, grazie, grazie.